Eccoci qui, ancora per la serie delle domande del nostro carissimo Andrea che mi ha fatto tre domande, due già le ho risposte e oggi risponderò a quest'altra. D'accordo? Domanda 3 La criptografia divina opera solo in ambito quantistico, ovvero dell'infinitamente piccolo? Non è possibile, ipotizzabile, che la velocità della luce sia il limite criptografico superiore, quindi macroscopico, di questa simulazione? Così come la lunghezza e il tempo di Planck possono essere il limite criptografico inferiore, ovvero microscopico? Grazie per le tue risposte. Sì Andrea, no, la velocità della luce non è un limite criptografico, la velocità della luce è proprio la velocità massima in cui un'onda si propaga nello spazio, nel nostro spazio così come lo conosciamo. La dimensione di Planck, l'energia di Planck, cioè tutte queste cose minime, in realtà sono, diciamo, i pixel di questa simulazione. Ok? Sono i pixel, quindi è come una simulazione, funziona così, non è stato preso un provvedimento di criptografia, anche per quello che riguarda la fisica relativistica, delle grandi cose, non delle piccole, perché non era necessario, nel momento che tu hai criptografato le piccole, di conseguenza hai criptografato anche le grandi, perché questi sono i pixels, diciamo così. Grazie infinite per queste domande meravigliose, come avrete capito Andrea è un appassionato di fisica e sono molto felice che le persone si dedicano alla fisica, perché è molto importante per capire la realtà dove viviamo e per capire che è tutto perfettamente logico e razionale. Vi amo da sempre. E per sempre.